ciao Mitici!" Mitici знаю, mitichi miti Questi sono bella lì ragazzi, facciamo una mezz'ora di Homebound Wars Apart Facciamo questo giochino perché io volevo fare un po' di Sbudellamenti con Dean Light Ma è un po' troppo Un po' troppo Un po' troppo Un po' troppo Tardozzolino Tardozzoletti Ok allora vediamo un attimo Ok 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 La partita l'abbiamo già cominciata ieri No l'abbiamo cominciata al day one Venerdì credo Allora il gioco è fantastico ragazzi Salta Ok Allora Io dovrei andare qua Ok Non mi ricordo più Allora Ah non si può andare No io ero andato qua Se però si teletrasportiamo qui Possiamo andare avanti da quella parte No ma qua non si può andare No ma qua non si può andare avanti da quella parte Eh no allora Allora dobbiamo andare qua Mi fa andare lui Mi fa andare lui Il setterrano viene proibito e si trova oltre quella porta Ma non già posso andare Vabbè il setterrano viene proibito e si trova oltre quella parte No ma praticamente questo gioco ragazzi Dovete capire che è molto fico Siamo in un mondo parallelo dove Questo è il buio E se voi non aspettate il buio ci prende Adesso io li faccio questo Solo perché ho cannato E mi sono accorto Allora qui siete nella vostra cittadella Quindi vedete che è tutto proprio bello Ma poi tra l'altro è molto bello A livello proprio di Di gioco Quando la corruzione si era ormai avviata E il mare è iniziato a inaspirsi Gli eruditi Presero misure drastiche Per proteggere la realtà Da un'orribile verità Oh che dico Ah era solo questo allora Vediamo un attimo Eh sì Eh sì Qui l'avevo fatto Perché poi alla fine Alla finita Forse bisogna andare qua Effettivamente hai ragione Marco Oh uguale a prima Qui c'è il ragnozzo Ok Perché lui non è che proprio salta Da paura Eh Bisogna recuperare le pietre Vediamo un secondo Quindi o si va su o si va giù Eh no Qui non c'è nulla Ahia Ma come fa? Ah si è il mondo quello del suo E giù Ok perfetto Non me lo ricordavo più Ah ma perché c'è Porca Grande Ah si mi ricordo di questi qua Che figata di mondo Emo ti tolgo Grande The drums Anche lui è Porca Proprio alla fine L'ho fatta La cazza Ah guarda chi c'è qui Coloro che si erano ribellati Furono esiliati Nelle fredde Distese del primo mondo Senza alcuna speranza Di poter fare ritorno Allora voi fate Vedi Bisogna Oh 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 si attivano solo quando attiviamo il potere capito raga è tutta la parte nuova questo allora se io faccio questo fighissimo scusami ragno ma sei un cattivone ok qua ma qui è non dire cosa ah l'ho già fatto qua oh 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 qui no 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 che figata di gioco raga che figata di gioco oh 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 ah ecco allora burca ma qui sono già andato ma a parte di qua che non l'ho fatto secondo me c'è qualche boss questo è che figata ragazzo sporca oh 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 mitici nooo è tosta sta parte dovranno metterci anche con lo stronzola già qui è un casino nooo Marco volevo saltare ma non si può saltare devo farmela tutta con l'L1 questa è vera tosta eh vabbè ma questo mi becca sempre come posso fare cazzo ma almeno mettete un buchino dove uno si può infilarsi dentro è peggio di Demon's Souls cazzo come faccio ad andare di là forse per quello che ho piantato qui l'altra sera vabbè finiremo la live su sto modo sta vedendo anche il nervoso all'occhio ah 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 volevo portarmelo qui e da me oh bisogna avere i fessi prontissimi eh pronti prontissimi mio mia candela ah fino qui cioè già che è difficile aspetta però aspetta no pensavo che c'era un buchino lì dove si poteva andare ma sicuramente ci sarà qualcuno che l'ha risolto in un secondo ma se io vado quando lui è là e non vicino a me forse è meglio ah devo farlo tutto forse tutto piccolino tutto così ah ecco ecco facciamo così io ragazzi devo staccarla live no fa lo stupido così guarda di che vai giù devo trovare il modo devo trovare il modo raga beh vabbè ora non riesco neanche a fare il pezzo iniziale cioè fammi capire ma quando sono così qualche scatto qualcosa che posso fare no solo quello posso fare oh cammini oh cammini ah e non ho lì non so perché davvero me l'hanno messo lì quel cartino lì basta o nulla raga e non fa devo fare così no ho trovato il modo e sono andato a farmi alla fine non ci credo non ci credo mi giuro non ci credo cosa ha combinato Marco D'Arms grande oh dai e quindi qua c'è l'altra hai capito oh no porca no niente impossibile tornare indietro dai eh ma fan per stupid dai che ce l'avevo fatto questo gioco è veramente una figata raga da qualche parte qui c'è un enigma che forse era questo eccolo eccolo come faccio povero ragneto no non credo che era cos'è sta cosa eccolo qua eccolo qua come l'ho fatto eccolo qua come l'ho fatto eccolo qua come l'ho fatto è qui è qui è qui vabbè ci sta ci sta di brutto ahhh povero ragneto allora amici io comunque comincio già a salutarvi a ringraziarvi di tutte le live che abbiamo fatto oggi e questa è la parte nuova del gioco un antico potere originale del primo mondo si trova più avanti una volta su uno strumento magnifico ma allora sono un buracchino nelle mani dell'oscurità io ho proprio un brutto presentimento che questo è un boss quindi io non ho nulla per combattere devo solo ok devo solo non farmi prendere beh ma tu dici che proprio devo schivare completamente non gli devo spiccare un dito nell'occhio porca loca nooo ho capito devo usare lui per chi cazzola da solo nell'occhio di quello là forse ho capito è vero sogno è vero sogno beh vedi però è vero sogno ho capito ma vai a fanculo scemo unito mi ha preso con l'artiglio è un gioco bellissimo ragazzi porca loca è più difficile di dimostrare ma porca miseria non me lo sono ricordato ancora se lo stronti una lineata se ritorna su è vero sogno non ci credo la cerimonia di lui è stato un fallimento il potere del primo mondo non può essere trattenuto da una semplice rituale e formule magiche il primo mondo è l'origine di tutto ciò che esiste e che mai esisterà è il progenitore della realtà stessa quando il primo mondo si venne a creare iniziava un'espansione di magia grezza da allora però la magia divenne marcia avevamo tentato di ignorare la corruzione della speranza che passasse ma trascurare la realtà equivale a correggere la spazia ora Arwen il figlio dimenticato l'araldo del primo mondo cerca di imporre la propria oscura realtà su tutti noi i cristalli erano un totem per le arti proibite ora invece sono solo mere reliquie di un'epoca lontana che figata no è sopra arriviamo lì e salvo e noi ragazzi va beh diciamo che si ripartirà da qua e noi ragazzi da Unbound Worlds Apart domenica sera Marco Drums Games Channel chiude qui le live del giorno ci vediamo domani sera per altre meravigliose live con The Light Unbound poi vediamo perché devo vedere un po' domani sera come si facciamo e magari con Microsoft Danger con il mitico Zaneboy ciao a tutti ragazzi grazie mille dal vostro Marco Drums mi raccomando di seguirlo su Facebook Twitter Instagram TikTok Twitch Pinterest Discord e basta e basta non c'è abbastanza c'è abbastanza e TikTok e mi raccomando di mettere un bel mi piace commentate e attivate la campanellina portate un sacco di gente commentate durante le live anche se io adesso non ho neanche tenuto la chat accesa scusate sul telefono perché ah no effettivamente da Playstation mi vengono fuori i vostri messaggi invece da Xbox Series 6 devo vedere il telefono il cellulare per i vostri messaggi quindi ci vediamo domani sera ciao a tutti dal vostro Marco Drums Games Channel mitici e mitiche mitichi eh mitici e mitiche mitichi i mitici dei fans di Marco Drums che ci vediamo insieme ciao a tutti ragazzi a domani statemi bene mitici